ma non si vuole neanche vedere, guarda ma dove si vede la luce? eh no mi la luce quella vai, 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 vai vai Chiara vai Chiazzo diunque diunque mi ha mai una pezza di... come? ah, pari Nara mi ha mai fatto mangiare le raglie di... ah, ti l'hai chiesto a te? no, lui mi ha detto se ti devo consigliare fai la marinara io però mi ero dimenticato che c'era l'aglio ma come porti i capelli bella bionda io domani ci avrò un adito che ti farò saltare la tenda se lo ho già adesso però io l'aglio lo diserisco dopo questa settimana come porti i capelli bella bionda devi farlo alla mara questo video qua perché io non sono biondo io ho anche pochi capelli sei gay è la macchina chi è che tu c'è la macchina? è la luca che è la macchina? la luca bevo? bevo? oh arriva adesso se vuoi quella pizza io fai... me la bella manina è della pezzaglia allora non lo bella pagherà da me però la pezzaglia dico quel, beh ah beh facciamo vedere a te ne vi è sto falco eh ma non so facciamo dire in che quantità da 1 a 10 in come si è messo ma come si è cagato chi è quel ragazzo dietro te sei sparito te dopo un po' sei sparito quindi domani mi devi raccontare dove sei andato giuro secondo te dove è andato andato un vera figa un vera in caccicina ma chi pega il problema è chi pega il caccicina perché poi hanno a tirare fuori nessun socio gibo ti ricordo che ho litigato per colpa tua con un vecchio secondo me qua qualcuno cosa sta facendo dove va la Sara per esempio non lo so hai chiuso la tenda però perché la lascia fare tu ti asciamare no 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 li scelgo io perché qua fa un po' se si mettono delle urla perché quando uno viene bisogna venire e si faccia sentire basta contenersi ma meglio io no aspetta chi è che l'ha detto chi l'ha detto se ti contieni vuol dire che se ti contieni vuol dire che no dove la luce quando sei innamorato chi è che no aspetta tu devi scontare senza contenerti no ma sai chi l'ha detto basta che ti mantieni ti contieni una che l'ultima volta l'abbiamo dovuta accompagnare in braccio in braccio nel senso di venire mi ha poi boh è 25 anche la piano saluta esatto basta